ragazzi il gol ci lascia ragazzi bernardeschi perché fa che peccato ovviamente dopo averlo comprato a 40 milioni basta è finita qua ragazzi finisce e non andrà non rimarrà alla juve presa la decisione insieme e niente ragazzi il gol federico bernardeschi che dopo che forse ha fatto la miglior stagione alla juve e no ragazzi non va bene no no lo mandiamo via vabbè come panchinare la buona ragazzi cioè ben tornati questo video direi di parlare perché qua c'è un piccolo capitolo per lui potrebbe essere un bel video ragazzi quindi vi assicuro intanto vi invito a lasciare un mi piace perché è vivito anche iscrivervi al canale perché chi non si iscrive al canale non ne va al mare e quindi se volete andare questa estate in vacanza al mare vi dovete iscrivere a questo fottutissimo canale ma prima detto questo direi ragazzi di cominciare col video allora partendo da è rimasto veramente tanto e cinque anni federico bernardeschi uno dei più grandi flop della juve potenzialmente ragazzi non dico che cassano 2 però proprio ci manca cassano 2 non dico così però cassano era molto più forte ma anche lui poteva avere tanto potenziale bernardeschi che arriva fa subito male forse la miglior stagione ha fatto quest'anno e con forse anche con sarri la una dei suoi migliori stagioni copirlo ha fatto niente con le altre allegri ma è che avesse fatto molto l'ultima l'unica cosa che ci ricordiamo ragazzi di bernardeschi con allegri parte 1 è la rovesciata che aveva tentato di fare contro l'atletico e l'essersi guadagnato il rigore proprio a rimontata contro sempre l'atletico guadagnavo ragazzi più di 4 milioni che sono tantissima del stagione e la juve sarebbe arrivata a massimo due e due e mezzo tutto come ci si aspettava ragazzi se ne andrà se ne andrà e non lo so ragazzi non non lo so in italia farà molta fatica come riporta anche alfredo pedula a guadagnare 4 milioni quindi se non vuole rimanere senza squadra e andare a giocare subito negli stati uniti non lo so ragazzi ma comunque chi c'è alla porta allora partiamo da quelle all'estero perché si dice che il corriere dello sport ha riportato che ci sarebbe il galatasaray quindi ragazzi classica destinazione turca a fenerba c'è galatasaray besiktas trapton sport ormai lo sappiamo ragazzi che la turchia è il cimitero dei calciatori non dico vecchi ma che nessuno si vuole prendere perché guadagnò troppo non servono più a nessuno e nessuno li vuole ci sarebbe proprio lo stesso galatasaray che quest'anno però ha fatto non mi sembra una buona stagione poi ci sarebbe ragazzi il westm il quotidiano sport dalla spagna va lanciato anche il barcellona ci sarebbe anche la premier league come detto prima il westm e il newcastle non lo so ragazzi non non ne ho idea ora come ora se dovessi dire all'estero l'ipotesi più più concreta sarebbe il galatasaray ragazzi perché potrebbe fare un'offerta i 45 milioni e lui accetterebbe subito per ora si dice che lui non l'abbia neanche presa in considerazione ma ne dubito fortemente in italia però ci sarebbe ragazzi la richiesta delle milanesi ragazzi non lo so si dice che interi milan ma già dalle scorse settimane si parlava che potessi andare al milan soprattutto va ragazzi io non lo so ragazzi non ne ho la più palida idea scusate il gioco di parole che ho detto due volte ragazzi ma non lo so signori io non ne ho la più palida idea perché non non si adatterebbe bene con con il 352 di inzaghi anche se paolo sosa era proprio colui che l'aveva lanciato col 352 a tutta faccia faccia tutta la faccia se non sbaglio sinistra e faccia sia terzino che l'esterno che la che la la sinistra secondo me ragazzi se se bernardischi avessi cambiato ruolo e ve lo dico in terzino adesso veramente sarebbe un buon giocatore e non sarebbe come dominato adesso perché secondo me sarebbe uno spinazzola due più o meno forse più scarso per uno spinazzola due due comunque nel 352 farebbe fatica mentre invece nel nel 433 più o meno che avrebbe il milan ragazzi non avrebbe molto senso perché potrebbe essere nella seconda categoria dei giocatori quindi ai panchinari di se un gioglio per ogni occasione metterlo falso nuove metterlo esterno metterlo a sinistra a destra potrebbe essere una buona idea anche sulla tre quarti o in 4231 sulla tre quarti verso destra o sinistra potrebbe essere un gioglio però non lo so ragazzi e poi il milan non è proprio nella politica lì con come si può dire nella politica che sta facendo vedere il milan perché non danno 7 milioni a che si che ora come ora un cifro veramente un cifro un giocatore veramente super però l'hanno rifiutato perché ci vuole troppo troppo troppi soldi e avevamo fatto la stessa cosa con donare un match all'angolo perché dovrebbe dare 4 milioni a un jolly che rischia di giocare una trentina di partite all'anno delle quali una decina da titolare non avrebbe tanto senso a meno che non si abbassi le richieste a due milioni e mezzo tre forse la milan ci potrebbe fare un pensierino ma per quattro milioni perché dovrebbe prendersi un giocatore come bernardeschi che adesso non dico che ne è buttato però quasi mentre invece ragazzi ci sarebbe la chiamata di sarvi ragazzi l'ex proprio proprio il suo ex allenatore si dice ragazzi che la grande pretendente quella in pole position adesso sarebbe proprio la lazio di sarvi che avrebbe esplicitamente richiesto bernardeschi l'aveva già ricercato al napoli poi se l'era ritrovato nella rosea juve e potrebbe giocare nella fascia destra nel 4 3 3 non lo so ragazzi se potesse potrebbe essere una buona cosa al momento tale non avrebbe avviato una trattativa con l'agente pastorello e col giocatore ma non lo so ragazzi sappiamo poi che lo tito non permette mai anche lui è pure peggio perché lui non è ragazzi come quelli del milan che lo fanno per politica lì content concreto come si chiama ragazzi per politica ma loro lo fanno perché lo tito e tirchio lo fanno perché lo tito non vuole spendere i soldi e quindi non gli darebbe mai quattro milioni e attualmente ragazzi se non si abbassa l'ingaggio almeno a 2 3 non dico 2 milioni 3 3 milioni e mezzo penso ragazzi che non si arriverà mai a niente quindi ora eccettivamente adesso in italia vedo la pista più possibile la lazio ma comunque vedo quella più probabile che sia il galatasaray perché la lo accontenterebbero potenzialmente anche il newcastle west ma sarebbe un po meme ragazzi sentirebbe anche preso per il culo il barcelona non penso che perché dovrebbe prendere uno come federico bernardeschi a meno che sciavi non dica io voglio federico bernardeschi ne dubito fortemente comunque ragazzi io vi saluto noi ci vediamo alle 3 e 45 con un video veramente stuzzicante che dire ciao